Abbiamo notato l'uso dei dialetti nel film. Il cinema fascista aveva per anni messo da parte i dialetti, al massimo poteva rimanere qualche battuta in certe commedie come Gli uomini che mascalzoni. Unica eccezione era stato 1860 di Alessandro Blasetti, un film che attraverso la presenza delle varie parlate regionali voleva dare il senso del risorgimento come fenomeno collettivo. Lo stesso Roma Città Aperta aveva lasciato il dialetto romanesco solo per alcuni momenti di colore, ma era fondamentalmente un film in italiano standard, quasi letterario nella sua correttezza lessicale e grammaticale. Il neorealismo di Paesà porta nel cinema la realtà del parlato delle varie regioni, dal siciliano al napoletano, al romanesco, al fiorentino, al romagnolo fino al veneto. E non si tratta di semplici cadenze regionali, siamo messi di fronte ai veri dialetti. Questi dialetti sono mescolati continuamente con la lingua delle truppe straniere, sottolineando, come abbiamo visto, le difficoltà di interazione tra i vari protagonisti. Tutti gli episodi sono indipendenti, apparentemente slegati, ma in realtà uniti non solo nella tematica della liberazione, ma da un'idea di fondo della lotta e del sacrificio come necessari per la conquista della libertà. Più che un film di guerra, mi piace definirlo un film di lotta e più che un film sulla liberazione, un film sulla libertà. Libertà anche dalle regole scritte e non scritte del cinema, come era concepito fino ad allora, legato ad una sceneggiatura e ad una storia definita fin dall'inizio. Rossellini è il primo regista moderno che recupera la spontaneità del cinema delle origini, quello preindustriale. Una grandissima libertà quindi nella realizzazione dei film anche in fase di montaggio. Rossellini stravolge la tecnica narrativa con una divisione in capitoli e un montaggio assolutamente innovativo per l'epoca, come abbiamo visto nel primo episodio. Ma naturalmente il film ci parla soprattutto del desiderio di libertà dei popoli oppressi dal nazifascismo e della lotta per la sua riconquista in un mondo sconvolto dalla guerra, quale era l'Italia di pochi anni prima. Invece di mostrare la guerra fatta dagli eserciti, Rossellini ce la mostra attraverso la gente comune, i problemi della vita quotidiana, la fame, le speranze e le illusioni. Vuole immergersi negli avvenimenti come per prendere coscienza non solo dei fatti storici ma dei comportamenti che avevano portato a quella situazione storica. Il film lavora per accumulazione, parte dai fatti concreti e li esplora come farebbe uno scienziato senza volerli giudicare e senza voler imporre la sua visione. Le emozioni vengono spogliate e rese con un'autenticità che mai si era vista fino ad allora. C'è una tensione verso la verità dei fatti che è una scelta morale prima di tutto. Il film cerca di dare attraverso le immagini un valore alle cose, di ritrovare degli orizzonti in cui credere attraverso questa capacità di cogliere in ogni episodio le angosce, le paure, le speranze, le contraddizioni dei protagonisti e la loro capacità di reagire e di non abbassarsi alla rassegnazione. Vale la pena di affrontare una critica che è stata rivolta al film. Gli storici hanno contestato il fatto che in Paisà e prima ancora in Roma città aperta la percezione sia che la resistenza fosse un fenomeno diffuso e praticamente tutti gli italiani fossero antifascisti, cosa che non era vera, come sappiamo bene. Si trattò di una scelta dettata dalla situazione storica. L'Italia era un paese sconfitto e in ginocchio, la cui credibilità a livello internazionale era pari a zero. Niente ha contribuito, come il cinema neorealista italiano, in particolare i film di Rossellini e De Sica a ridare dignità agli occhi del mondo a un'intera nazione devastata dalla guerra, che era odiata e disprezzata come la patria del fascismo e di una monarchia vigliacca che era finita nel fango. Questi film sono riusciti nell'impresa di far immedesimare milioni di persone nei drammi che il nostro paese aveva dovuto affrontare negli anni dell'occupazione nazista. Sicuramente Rossellini riesce a cogliere un'esigenza di libertà che era scaturita dopo la fine del fascismo, ma che esisteva in Italia anche durante la dittatura e specialmente negli anni della guerra era diventata sempre più insopprimibile. Roberto Rossellini compone il suo film come un autentico reportage ricostruito. Tuttavia la sua visione va oltre la semplice cronaca di un'epoca. Il valore documentario unico del film risiede nella sua capacità di trasmettere la storia attraverso una ricostruzione dei fatti emozionante, rivelando come la guerra travolga le vite individuali e come la ricerca della libertà richieda sacrifici ad ognuno. Uno dei principi fondamentali che Rossellini adotta nel suo stile è la coralità dell'esistenza umana. Anziché focalizzarsi sull'impresa individuale, privilegia l'aspetto corale delle scene. La folla assume il ruolo di un coro che amplifica la sofferenza individuale, mostrando come tutti coloro che appaiono nel film, in modi diversi, siano dei piccoli eroi. Il dramma di ognuno dei protagonisti di Paisà non viene mai isolato dal contesto, perché è importante capire che ci sono mille altri drammi che si svolgono allo stesso tempo che il film non ci racconta. La liberazione in Italia è stata un processo complesso, tortuoso e contraddittorio. Paisà ci mostra che la libertà può essere preservata solo attraverso il sacrificio. Il film non presenta trionfatori, ma evidenzia la lotta lunga, difficile e tragica per questo diritto alla libertà e alla democrazia, rifiutando l'omologazione tipica del regime fascista. Le scelte individuali sono ciò che fa la differenza. C'è il ritratto di un popolo che vuole immaginare un futuro e una vita diversi. Il concetto di patriottismo viene riconsiderato non più come esaltazione dell'idea di nazione, ma come risultato della consapevolezza che tutti gli esseri umani sono fratelli uniti nella tragedia. Nei film di Rossellini c'è una forte componente spirituale e cristiana, ma orientata in senso progressista, una necessità di sacrificarsi per arrivare alla coscienza del valore della libertà. Rossellini ha dichiarato più volte che per lui l'essenziale del racconto è l'attesa, quei momenti di una storia in cui tutto sembra diventare banale, in cui il racconto sembra arrivare ad un punto morto. In ogni episodio di Paesà ci sono questi momenti in cui apparentemente la narrazione si ferma, sembra che non vada da nessuna parte e poi improvvisamente arriva una conclusione inaspettata e tragica, che diventa ancora più efficace proprio perché preceduta da questi momenti, che sono come la sensazione di vuoto d'aria prima di un uragano. Rossellini è stato il regista italiano più interessato alla ricerca sull'uomo, a comprendere l'uomo attraverso la registrazione di eventi che percepiamo come semplici, diretti, ma nello stesso tempo sono testimonianze definitive della realtà sociale di un'intera epoca. Paesà è costantemente carico di questa ricerca di un senso di umanità, di amore verso il prossimo, in un avvicinamento ai personaggi che diventa anche scelta estetica. Il finale drammatico di ogni episodio, come è tipico del neorealismo, è sempre la rappresentazione di un sacrificio, cercato e non. Qualcuno ha paragonato il percorso del film ad una via crucis, una passione di Cristo, le cui tappe sono i vari episodi e la cui vittima sacrificale è di volta in volta rappresentata dalla ragazza siciliana, dal soldato americano, dallo scugnizzo, dalla giovane romana che deve prostituirsi, dal partigiano che muore fra le braccia dell'infermiera e così via. Personaggi che non hanno nulla in comune se non la loro umanità, semplice e modesta. I personaggi di Paesà sono testimoni di una sofferenza che non può più essere tollerata e nello stesso tempo diventano artefici di un cambiamento anche al costo della loro stessa vita. Per Rossellini il cinema non deve esistere come spettacolo di evasione, ma come posizione morale. Per lui il cinema doveva essere utile nel senso di portare lo spettatore a conoscere e riflettere sulla condizione umana. Per questo motivo nell'ultima parte della sua carriera si indirizzerà verso la televisione come strumento privilegiato per far comprendere la storia. Questa sincerità di fondo permette di andare oltre il cinema spettacolo, di liberarsi perfino degli attori e delle sceneggiature facendo della libertà il suo fondamento e il suo obiettivo. Un approccio diretto con la realtà che è alla radice non solo del neorealismo italiano ma anche della nouvelle vague francese, come ho detto. Si può dire che Rossellini è stato il padre spirituale delle due correnti di rinnovamento più importanti della storia del cinema. Come succede per altri capolavori dell'epoca, il film non viene apprezzato in Italia, soprattutto dal pubblico, ma conosce un trionfo all'estero, in particolare negli Stati Uniti e in Francia. Vince molti premi per il miglior film e la miglior regia e viene poi candidato all'Oscar per la sceneggiatura. Questi film mettono in scena il riscatto non solo del popolo italiano, ma nelle loro storie si sono potuti riconoscere anche gli spettatori di tutti i paesi che avevano vissuto i drammi della guerra. In conclusione, Paisà rappresenta uno dei vertici del cinema mondiale e trova nella forza del suo messaggio contro la guerra il valore più grande. Il suo approccio realistico e documentaristico ha contribuito a definire il concetto di cinema moderno e ha ispirato molte figure importanti. I fratelli italiani vedono Paisà quando sono ancora studenti di liceo, in una sala semideserta con la gente che protesta contro il film. Per tutti è uno shock vedere mostrata sullo schermo la stessa realtà brutale che avevano visto nelle strade poco tempo prima. I taviani, entusiasti del film, uscendo dal cinema, vengono alle mani con alcuni spettatori e da quel giorno decidono che nella vita faranno i registi. Gillo Pontecorvo vede il film a 30 anni e sceglie di cambiare vita, investe i suoi risparmi in una cinepresa e inizia la sua carriera nel cinema. Nel 1948, dopo aver visto Roma Città Aperta e Paisà, Ingrid Bergman scrive a Rossellini una famosa lettera che era insieme già una inconsapevole dichiarazione d'amore, cambiando per sempre le loro vite. Martin Scorsese ha inserito Paisà fra i suoi dieci film preferiti, insieme a Quarto Potere, Otto e Mezzo, 2001 di Sé nello Spazio e altri capolavori massimi. Ma quello che forse più di tutti ha avuto la vita segnata in positivo dal film è stato Federico Fellini, per il quale rappresenta il momento di passaggio dal ruolo di scrittore per il cinema a quello di cineasta. Come ho detto nell'altro video, è proprio in questo film che gira la prima scena della sua carriera, quella della damigiana trascinata sotto il tiro dei cecchini. Fellini era molto giovane e ancora non aveva ben chiaro cosa volesse fare nella vita. Durante i mesi delle riprese di Paisà, vissuti come un vero e proprio viaggio avventuroso, si pone accanto a Rossellini seguendolo come un fedele allievo e trascinato dal suo entusiasmo si rende conto che il cinema è ciò che può farlo sentire veramente realizzato. Come sempre, grazie, io spero che un video come questo possa spingere qualcuno a scoprire o riscoprire un regista come Rossellini che oggi viene spesso citato ma è ormai poco conosciuto, specialmente dai più giovani. Vi raccomando di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, se volete lasciate un like e ci vediamo per il prossimo grande classico del cinema. Un saluto da Andrea